Qual è il versato? Identità non verificata. Questa informazione può aspettare. Per ora, i tuoi ordini sono questi. Sono insoliti. Ma questi sono tempi insoliti. Vai, comandante. Fai quello che fai meglio. In vista dell'operazione Cener, siamo stati assegnati ai campieri di Fondor. Agente Ask, noi due prenderemo i satelliti sperimentali per lo Star Destroyer Dauntless e garantiremo la sicurezza per il MOF Raid. Agente Miko, a te il Corvus. Qual è il piano, comandante? Proteggere lo Star Destroyer. Non devono sapere dell'operazione. Intercettiamo quella corvetta nemica. Vengono con te. Agente Miko, il piazzo è quello in altri ribelli. Sì, comandante. Corvus in movimento. Addosso! Sì, comandante.